Bella a tutti ragazzi, sono in un altro video, sempre la stessa partita di poco fa Sto continuando Ma che cazze Non chiamano più colpi Mischino al Mila Fish e l'ho ucciso qualche dieci volte di fila comunque Poco fa mi faceva stuca suca Forse la dietro mi spunto Può curare ragazzi Sento dei passi Eccola Va bene 88 Comunque ho provato Cioè poco fa continuavo a giocare senza registrare Se tu registri i colpi entrano un po' più con fatica se registri Non so, ho notato questa cosa Infatti Quando non registravo ho continuato a giocare I colpi Guarda, hai visto? Qua quest'ora se non registravo entravano tutti Boh, non so Magari è solo Cavolo, muori Un mio Così Dove? Dove? No, mi chiamano proprio Fish Vaffanculo 86, 19, 18, 18 Eccolo Guarda, non entrano Non so Non so Guarda, qua davanti e davanti Va bene Vaffanculo Allora Cosa? No, non l'ho capita questa Ma non era uno L'ho ucciso No, vabbè Un gioco di merda Va vaffanculo Va Fatto prendere un colpo E mori Eccoli Eccoli Questa puttana Devo sentire due passi Ragazzi, questo non è camperare Voglio capire dove stanno Vi giuro L'avevo sentito i passi Porca puttana L'avevo sentito i passi Io ho capito a certe volte Che mi soffermo Perché voglio proprio capire Dove stanno i nemici Così sento i passi E poi Ci vado E poi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Minchia, non entrano i colpi! Oh, oh mio. Ok. Guarda! E qua? Ho! Oh! 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 Son qua! No! Ho sparato malissimo, malissimo ragazzi, ho sparato! Veromale, ho sparato! Oh! 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 Vista, giocano. Scentivo, caralla. Vabbè Pala fanculo Oh porca la puttana Vediamo se riesco a far quello C'è un nemico qua Dove cazzo? Vabbè non ci credo Scompare così dal nulla Ragazzi odio quando giro Per tutta la mappa Non incontro nessuno e poi mi ammazzano Anche con l'M320 Mi ha ucciso Fanculo Due minuti e stacco il video Ai 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 Vabbè vabbè che è finito Danke L'ultima killer la devo fare Apri? Ora si apre Va bene ragazzi Il video è finito Ho fatto un risultato discreto Alla prossima ragazzi Ciao 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 Grazie.